Hanno parcheggiato il loro furgone nei pressi di un'area di sosta nella zona della stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo alle prime luci del mattino. È stata questa presenza imprevista ad attirare l'attenzione dei carabinieri della stazione di Entracque e dell'aliquota radiomobile del nucleo operativo della compagnia di Borgo San Dalmazzo. Dopo essersi avvicinati al mezzo, i militari hanno quindi proceduto ad un controllo che ha fatto emergere che le tre persone che si trovavano a bordo del furgone, due uomini ed una donna residenti in Francia, utilizzavano il furgone come vera e propria abitazione ambulante nella quale erano ospitati anche tre cani di grosse dimensioni. Un accurato controllo del veicolo ha permesso di rinvenire nei pressi dello sportello del conducente un contenitore con tracce di droga, probabilmente hashish. Con la successiva perquisizione è stato possibile ritrovare sempre all'interno del furgone numerosi quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo, marijuana, cocaina ed anche una pasticca di LSD. Sono stati inoltre trovati tre bilancini di precisione e numerose banconote da 10 e 20 euro per un totale di circa 1000 euro, oltre ad altro materiale che serviva per il confezionamento della droga. I tre francesi sono stati condotti in caserma per espletare le formalità di rito, data la varietà ed il quantitativo dello stupefacente rinvenuto, del denaro e del materiale trovato, si è proceduto all'arresto. Per i due uomini si sono aperte le porte della casa circondariale di Cuneo, la donna si trova invece rinchiusa nel carcere di Torino. I tre cani che vivevano con loro nel furgone sono stati temporaneamente affidati ad un canile della zona. I tre cani che vivevano con loro nel carcere di Cuneo, la donna si trova invece rinvenuto, di Cuneo, di Cuneo, di Cuneo, di Cuneo, di Cuneo, di Cuneo.